Hi guys, fa la gallerola cicosa, ciao ragazzi e benvenuti sul canale di zio alfi che siamo qui con la tempesta in delle gare stunts, gara chiamata portugal, dovrebbe quindi essere... Eccolo lì raga, eccolo lì, uno stunt del portogallo o una roba del genere e partiamo al go, raga allora, che volevo dirvi, no, checkpoint buggato l'avevo subito visto perché non è partito sotto il tempo, dai 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 dai, raga c'è una brutta notizia allora c'è qualcuno già partito, porca Eva, effetto di orange che non ha preso, che ha preso il checkpoint ed è sta fuggendo, bastardone, sono tre giri sta gare raga, abbiamo preso la tempesta, ha voluto cambiare un po' e va sta classifica di cazzo, siamo in più di 20 persone raga, se non mi sbaglio e che volevo dirvi, raga, allora prima cosa ho lasciato un like per zio alfi che assolutamente poi aspettate un attimo raga, parlo di merda, scusatemi a chi ho buttato giù lì turbo, 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 ok, spirali spirali che sembrano semplici raga, sembrano semplici sono enormi, ma sono veramente enormi, mamma mia ok, vabbè è una stronzata raga qui, appoggiamoci, altro warride sul tubo bello, 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 andiamo, 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 prima posizione ci siamo, ci siamo, prima posizione per zio alfix, bene così ragazzi ottimo così, comunque raga, la brutta notizia, un attimo solo che faccio so stunt qui raga, devo farlo spettacolare, so stunt raga no, però la telecamera non si deve bug, se no sbaglio sicuro ok, vabbè raga, mettiamoci dritti, perché se no possiamo sbagliare, non voglio voglio la prima posizione, voglio partire bene in questo episodio, abbiamo anche dietro uno quindi vediamo di fare poco gli stupidi, raga guardate il rango mio quant'è 7, 7, 7 raga, non dico più nulla, non dico più nulla perché poi basta alfix non si infama, tutto qui raga pronto ok, forse no comunque, secondo giro, passiamo qui, altra volta la curva abbia un traceto molto molto facile, però mi piace raga, mi piace, mi piace, mi piace nonostante anche abbastanza semplice, c'è quel warride, quella piccola parte di warride ma nulla di che raga, nulla di impossibile, anzi, molto molto piccola quella parte di warride quindi si può fare, si può fare la prima facilmente, perfetto, non mi sbagliare qui ottimo raga, apriamo anche qui il turbo, vi ho fatto un giro pulitissimo ora, qui raga qui lo faccio in prima persona perché alcuni video di voi chiedete, lo fate anche in prima persona alcuni hanno detto pure, fai una gara in prima persona e vincila raga, a volte è più semplice, non è più semplice, mi stavo uccidendo non devo parlare io perché c'erano le cose, io parlo e succedono poi che mi sfanculizzo da solo, sbaglio, ho sbagliato raga era meglio come facevo prima, era meglio partire dall'alto e poi scendere che è il contrario seconda posizione, si l'ha fatto il primo raga no, prima posizione raga prima posizione per noi, si così dai, andiamo così, andiamo così andiamo così allora raga abbiamo uno dietro, abbiamo uno dietro con la t20 uguale alla mia allora raga, prima posizione si, un secondo black pro vediamo un po' di fai sostante, di chiuderlo in maniera decente giriamoci, ragazzi gira col freno a mano, c'è ancora qualcuno che non lo sa con l'r1 in questa cosa il mio, però altri hanno l'x per il freno a mano io ho l'r1, quasi tutti quanti, il comando standard dell'r1 quindi dovresti avere l'r1 prendiamo più velocità e andiamo a concludere questo secondo giro in prima posizione, raga assolutamente dobbiamo concludere questa gara in prima posizione, non voglio sapere nulla mamma mia sta curva qui abbiamo sto Cyrus, non è un attivente, uno Cyrus dietro di noi raga qui spirale che dovrebbe essere molto semplice la facciamo così raga perché non voglio sbagliare, voglio sta prima posizione assolutamente ma comunque ci giochiamo tutto lì ci giochiamo tutto a sta spirale qua raga allora appoggiamoci ok perfetto no, no vabbè raga non ci credo no raga, mi dovete spiegare che cosa è successo cioè mi dovete spiegare che cosa è successo ora la mia tempesta come ha fatto a impuntarsi lì, a sbattere lì cioè ma è impossibile che mi capitano teste sfortune a me raga sono entrato qui ma seconda posizione, vabbè raga non ci credo boh, vabbè Ilario chiuderà in prima posizione raga, complimenti a lui tra l'altro mi aveva scritto un messaggio che era felicissimo di giocare per la prima volta con me complimenti Ilario, è stato bravo e fortunato chiudiamo raga sostanto così perfetto terza posizione what? no seconda posizione, ok c'era qualcuno che ha sbagliato lì al terraggio raga quindi abbiamo rischiato anche di chiudere in terza posizione, bene così chiudiamo in seconda posizione e ci vediamo subito alla seconda gara chiudiamo così in stile ed eccoci qui ragazzi alla seconda gara a Painball Road, una gara di 6 in 1 raga, c'era scritto che addirittura si poteva usare la gara, la cosa GTA oh ma quella è la Tempesto, quella è la mia, bellissima, bella bro però raga ho voluto mettere solo l'ottocontatto, però guardate qui sarà qualcosa di, neanche voglio immaginare sarà qualcosa di incredibile comunque partiamo così primo giro di 3 e raga già spingono, già spingono spirale qui ok c'è anche il livello di sospetto bello bello raga, bello, bello, bello no c'era War Rider raga, non l'avevo capito raga c'era War Rider, non l'avevo capita cazzo raga, nelle gare GTA bisogna beh però non lo dobbiamo fare più War Rider, siamo dentro ah ok, ok, perfetto si poteva fare sia fuori che dentro credo sì perché c'era scritto così in inglese dove devo andare, non si capisce raga questo è saltato in una maniera incredibile non ha preso il rallentamento ah c'è l'altra gente che viene dall'altra parte ok raga, sesta posizione per noi War Rider qui raga War Rider qui sali, sali, sali mamma mia raga, al limite al limite l'ho preso ma l'ho preso dai dai, ci stiamo, ci stiamo, ci stiamo mamma mia che figata mamma mia Senuan, mamma mia Senuan, best in the world veramente il migliore al mondo raga rimarrà lui ok ok, ok dove che dobbiamo andare ora frena, frena no raga, troppo sono troppo veloce qua possiamo salire però raga possiamo salire ci siamo, ci siamo oh bello, bello non siamo responati prima position secondo giro e ora vaffanculo a te con la mia S720 vaffanculo a te vaffanculo a tutti no dai, terza posizione quarta siccome hanno fatto perdere un sacco di te dove che devo andare raga che cazzo è? dove devo andare? ah, di nuovo il tubo è qui non l'avevo visto raga non l'avevo visto porca Eva no, 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 no cazzo faccio dai, muoviti c'è il warride qui raga ok, quest'olta lo facciamo lo facciamo sto warride sì, sì, sì ci siamo terza posizione ma raga quanto tempo ho perso per fare lo stronzo lì bello ma mamma mia raga che gara mamma mia raga che gara mamma mia che gara raga una gara fenomenale oh, che sorbasso di Zulfix no, non mi prendere ok dove che dobbiamo andare andiamo qui raga non so forse c'è il warride raga lì andiamo qui ma non so se sto facendo non mi sto facendo una stronzata raga vediamo un po' no, check point preso dove ora? ah, si va dritto ok, seconda posizione dopo comunque gara che lo dico a fare l'ho detto già dieci volte non lo so veramente la perfezione 13 secondi da Pier Giorgio speriamo che qualcuno lo trolli raga andiamo un po' se è possibile mi hanno fatto pure a me poi tra l'altro ok ok ci siamo altro qui uh, raga facciamo sta cosa così e prendiamo il warride meno male che questo è sbagliato all'ultimo no, 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 no mamma mia che mi sono scanzato no, 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 no ok raga si può benissimamente scanzare così perfetto, perfetto saliamo qua raga mamma mia che gara madonna mia che gara raga perfetta uh primo posto per noi mamma mia che cosa sto scanzando raga che cosa sto scanzando non mi prendere troll beh, mi voleva fare guarda qui questo guarda levati levati andiamo alla parte verde ora raga vediamo che deve essere la stessa cosa credo di sì eeeh sì raga stessa cosa andiamo così c'è il traguardo qui prima posizione per noi mamma mia non ho preso quello prima posizione per noi andiamo così chiudiamo così grande gara di zio alfix spero che il video ragazzi vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un like per questa pazzia si poteva fare in che gta e secondo me in gta veramente era stupendo ci vediamo al prossimo video un bacione e un abbraccio nella vostra zio alfix ciao 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 ciao